ciao a tutti sappiamo che ultimamente i tempi sono stati strani per molti è stato davvero stressante come va la tua salute mentale e i tuoi amici più di 264 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di depressione per rendere la cosa ancor più sconcertante queste sono solo le persone a cui è stata fatta la diagnosi i sei segni di depressione nascosta 1 sensazione di tristezza vuoto o infelicità anche se i sentimenti di disperazione sono comuni tra gli individui con depressione clinica ce ne possono essere alcuni più difficili da provare questo può includere l'insoddisfazione il fallimento e la convinzione che nulla migliorerà le persone che soffrono di depressione spesso si sentono infelici senza alcuna vera ragione 2 scoppi d'ira irritabilità o frustrazione anche per piccole questioni molte persone non si rendono conto che la facile irritabilità cronica e rabbia possono mascherare una depressione di fondo l'irritabilità costante è anche un sintomo della depressione che vediamo negli adolescenti e nei bambini che potrebbe essere liquidata come una normale inquietudine della crescita o come un comportamento adolescenziale 3 perdita di interesse o di piacere nelle normali attività come l'esercizio fisico i giochi o anche il sesso tutti abbiamo momenti in cui ci sentiamo un po più introversi del solito ma quando le persone soffrono di depressione clinica possono perdere il senso di piacere che provavano per le loro attività preferite o per il contatto con gli altri questo isolamento può rendere più difficile per gli amici e le persone care vedere gli altri sintomi della depressione che una persona può manifestare il che rende più difficile sapere quando una persona ha bisogno di aiuto 4 disturbi del sonno come l'insonnia o dormire troppo per quanto tu possa essere stanco o stanca se sei depresso o depressa potresti anche avere problemi a dormire i marcati cambiamenti nei modelli di sonno come l'insonnia o l'aumento del tempo trascorso a dormire sono un altro sintomo della depressione clinica 5 stanchezza e mancanza di energia per cui anche i piccoli compiti richiedono uno sforzo ulteriore 6 cambiamenti dell'appetito alcune persone aumentano o perdono peso quando soffrono di depressione clinica a causa del cambiamento dell'appetito per alcuni questo significa un aumento dell'appetito ed eventualmente il conseguente aumento di peso altri perdono l'appetito e faticano a mangiare molto in entrambi i casi vale la pena di indagare su tale cambiamento significativo 7 ansia agitazione o inquietudine se conosci qualcuno che sempre irrequieto o agitato senza un motivo specifico è possibile che soffra di depressione cose come l'eccessiva inquietudine il ritmo la sensazione di stanchezza o l'incapacità di stare fermi potrebbero essere uno dei principali segni di depressione 8 rallentamento del pensiero della parola o dei movimenti del corpo le persone che sono depresse possono diventare lente a pensare e impiegheranno più tempo per pronunciare anche una sola frase alcuni potrebbero anche manifestare lentezza nei movimenti del corpo 9 sentimenti di inutilità o di colpa fissarsi su fallimenti passati o incolpare se stessi per cose che non sono di propria responsabilità un sentimento di inutilità o di colpa è tipico di chi soffre di depressione anche se molte persone provano occasionalmente sentimenti di colpa o di inutilità è una semplice sensazione che il nostro peso in questo mondo ha poco valore in questo momento o che ci sentiamo responsabili della reazione o del comportamento di un altro può includere valutazioni negative irrealistiche sul proprio valore o preoccupazioni di essere colpevoli di qualcosa o rimuginare su piccole mancanze del passato 10 problemi a pensare a concentrarsi a prendere decisioni ea ricordare le cose più spesso si pensa che sia un sintomo del disturbo da deficit di attenzione iperattività ma l'incapacità di concentrarsi o di mantenere la concentrazione sulle proprie attività può essere un segno di depressione clinica le persone con depressione clinica spesso hanno problemi di memoria che possono aumentare le loro difficoltà nel mantenere le attività quotidiane